Rete, rete, che ha segnato? Nasuti? Nasuti? Si, si, Nasuti. 4 a 2, giusto? Mi confermate il risultato. 4 a 2 il risultato qua. Ecco, correggo, correggo, 5 a 2. 5 a 2 a favore della squadra ospite l'Atletico Lanciano. Non prendiamo cosa, non prendiamo cosa, chiudi Luca, chiudi, fino alla fine, fino alla fine, dai, così, buona, gioco, deciso Lasimo, deciso.